Viene comunemente chiamata droga da sballo, una serie di sostanze sintetiche molto diffuse in ambiente giovanile, quanto sequestrato ad un 23enne di Foligno da parte della squadra mobile di Perugia del commissariato della città Folignate. 80 grammi di hashish, diverse pasticche di ecstasy, 70 grammi di chetamina, 50 francobolli di LSD, una delle sostanze allucinogene più potenti. Nell'abitazione del giovane è stato trovato un bilancio di precisione, denaro contante, probabilmente provento dell'attività criminale. È uno dei risultati conseguiti dalle autorità competenti nell'ambito di una lotta asserrata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che aveva portato all'arresto in fragranza di reato giovanissimi pusher sorpresi nei giorni scorsi a cedere alle loro coetane sostanze psicotrope nei pressi di diverse discoteche folignati. Il 23enne è stato arrestato e associato a persona competente a casa secondariale in attesa della sentenza di condannare i f***i.